1989 sul numero 428 della testata batman a pagina 35 36 il joker insieme a un suo scagnozzo sta crivellando di colpi robin jason todd lasciandolo tramortito all'interno di un magazzino il joker vuole far esplodere quel magazzino aziona la bomba e scappa via batman nel tentativo di arrivare in tempo per fermare questa bomba si ritroverà davanti uno spettacolo incredibile e l'ultima pagina di questa vicenda che i lettori americani ma in realtà un po di tutto il mondo si ritroveranno davanti sarà il magazzino che esplode e un batman di spalle incredulo che guarda questa scena tutti quanti si sono domandati che cosa succederà a jason todd prima di parlare però di che cosa successe a jason todd bisogna fare un salto indietro nel tempo bisogna tornare nel 1940 quando sul numero 38 di detective comics bob kane e bill finger introdussero il personaggio di robin in quel caso robin era interpretato da dick grayson un circense figlio di acrobati e acrobata lui stesso che vide la sua famiglia uccisa durante un suo numero da un mafioso tony zucco durante uno spettacolo che si svolgeva a gotham anche bruce wayne assiste a quel delitto e decise di prendere dick grayson sotto la sua ala e di adottarlo il fumetto evolve e anche i personaggi all'interno di esso evolvono con lui e ad un certo punto dick grayson decide di mollare l'attività di vigilante insieme a batman e di studiare legge di conseguenza batman si ritrova senza una spalla il personaggio di robin però era stato creato per far immedesimare molto di più i lettori soprattutto giovani all'interno delle pagine di batman quindi serviva un nuovo robin serviva un nuovo personaggio da far crescere ecco quindi spuntare jason todd ora la storia di jason todd la possiamo dividere in due grossi blocchi ovvero il pre crisi sulle terre infinite e il post crisi sulle terre infinite che cos'è però crisi sulle terre infinite ci arriviamo dopo prima però parliamo di quello che successe prima della crisi quindi andando avanti veloce siamo nel 1983 e dick grayson ormai è nei panni di nightwing quindi il posto di robin è vacante spunta jason todd le storie dei due personaggi sono abbastanza simili in particolar modo per quanto riguarda le origini perché sono circensi entrambi e entrambi hanno visto la loro famiglia perdere la vita questa volta però il colpevole non è un mafioso come nel caso di dick grayson ma killer croc successivamente jason verrà adottato da batman e dopo un breve periodo nel quale lo affianca con un'identità fittizia ma non con l'identità di robin con il benestare successivo di dick diventa a tutti gli effetti il nuovo robin a quel punto però accade una cosa importantissima non solo per la storia del personaggio di robin e di jason todd ma per tutto l'universo della dc comics ovvero il famosissimo crisi sulle terre infinite che cos'è quindi crisi sulle terre infinite crisi sulle terre infinite è un maxi evento gigantesco che era stato creato con il preciso intento di devastare l'universo anzi il multiverso dc comics che si era praticamente creato in più di 40 anni di pubblicazione per azzerarlo completamente e costruirlo da capo è stato pubblicato in 12 albi a cavallo del 1985 e del 1986 scritto e disegnato da marv wolfman e george perez la maggior parte dei supereroi dc comics è stata creata nella cosiddetta golden age del fumetto supereroistico americano capite bene che dopo più di 40 anni di pubblicazioni e decine e decine e centinaia di albi a fumetti prodotti con tantissime storie la continuity era diventata un tantinello complicata da seguire tant'è che nel 1981 lo stesso marv wolfman successivamente autore di crisi sulle terre infinite ma allora autore sulla testata di lanterna verde nella sezione della posta rispondendo ad un lettore scrisse un giorno forse qualcuno si deciderà a chiarire che cosa fa davvero parte del cosmo dc comics e cosa no insomma solamente quattro anni dopo fu proprio lui a deciderlo scrivendo la crisi dopo che flash correndo velocissimo riuscì a salvare il cosmo della dc tutta e dopo che l'antimonitor fu sconfitto dc comics poté organizzare il suo nuovo rilancio editoriale e i suoi nuovi rilanci per quanto riguarda le testate che aveva in corso uno dei rilanci più famosi che tuttora fanno da pilastro fondamentale della letteratura di questo personaggio è stato sicuramente nel 1987 batman anno 1 scritto ovviamente da frank miller e david mazzucchelli questa mini serie raccolta poi in volume dava proprio le basi del cavaliere oscuro dava sostanzialmente un punto 0 un anno 1 per tutti i nuovi lettori che volevano approcciarsi al personaggio ma non solo anche per tutti i nuovi scrittori che avrebbero dovuto scrivere del personaggio una storia magistrale che fa storia tutt'oggi una volta concluso quindi le origini di batman servivano le origini della sua spalla in questo caso dick grayson rimase nightwing mentre jason todd ebbe una nuova rinascita in questo nuovo universo post crisi jason è un ragazzo normale che vede suo padre ucciso da due facce e la madre morire di malattia il ragazzo quindi una volta rimasto solo non può far altro che darsi alla criminalità e alla delinquenza con piccoli furti e quant'altro finché uno di questi furtarelli non fu proprio il tentativo di rubare le ruote alla batmobile batman ovviamente vede che cosa jason stava cercando di fare lo ferma e una volta capito e conosciuto il personaggio decide di prenderlo sotto la sua ala adottarlo e vedendo del coraggio in quello che stava facendo renderlo il nuovo robin questo darà proprio nuova vita a jason todd che affiancherà batman per qualche anno all'interno delle sue avventure il personaggio però non è che godesse di tantissima simpatia da parte dei lettori e anche lo scrittore denison il ammise che era un personaggio molto difficile da scrivere che a un certo punto prese vita propria l'apice però di questa antipatia arrivò quando jason todd uccise a sangue freddo uno stupratore tra l'altro un personaggio che neanche batman avrebbe potuto toccare perché è protetto dall'immunità diplomatica lui invece se ne frega altamente e lo ammazza a sangue freddo questo è un punto di non ritorno perché come sappiamo uno dei principi fondamentali del personaggio di batman è quello di non uccidere e la sua spalla non può farlo andando avanti veloce arriviamo quindi al 1989 arriviamo a jim starling e ad una morte in famiglia la nostra storia questa storia avviene proprio dopo l'evento che vi ho raccontato poco fa ovvero robin che uccide lo stupratore infatti dopo quel caso di maxi arresto per quanto riguarda insomma quei trafficanti di pornografia infantile che batman e robin hanno sventato batman sospende dal servizio jason per cercare di farlo riflettere un attimo e jason per cercare di calmarsi comincia a camminare per la città a quel punto ritorna nel quartiere dove tutto è iniziato il quartiere dove lui faceva il delinquente dove ha cercato di rubare le ruote alla macchina di batman lì incontra la sua ex vicina che lo riconosce e gli dice di essere in possesso di alcune foto dei suoi genitori tornato a casa jason trova tra i suoi vecchi documenti il suo certificato di nascita nel quale scopre che il nome di sua madre non era catherine johnson ma un nome illeggibile che però iniziava per s utilizzando quindi il computer della batcaverna e un'agendina che era di proprietà di suo padre ricerca e va a fonda la questione trovando le uniche donne che avevano il nome che iniziavano per s e che frequentavano suo padre in quegli anni ci spostiamo e batman nel frattempo che sta succedendo tutto questo a jason è sulle tracce del joker che è evaso per l'ennesima volta dall'arcam asylum e che sta progettando qualcosa di molto losco le indagini fanno scoprire a batman che il joker ha un missile nucleare che sta cercando di vendere a dei terroristi libici che vogliono spararlo su tel aviv in questo modo le due linee temporali di batman e jason si incrociano in quanto una delle tre persone che aveva trovato all'interno dell'agendina di suo padre lavora per i servizi segreti israeliani e quindi si era recato lì proprio per cercare sua madre i due insieme alla prima delle tre candidate che jason è riuscita a scovare quindi l'agente segreto israeliano riescono a sventare il piano del joker ma non riescono a catturarlo infatti il joker scappa la donna però rivela che non ha mai avuto figli quindi non è la madre di jason todd a questo punto però il dinamico duo non si dà per vinto e quindi vanno a vedere l'altra candidata che jason aveva appuntato sul suo taccuino quest'altra candidata sta gestendo un campo di addestramento per terroristi nel deserto insomma non una situazione esattamente idilliaca ecco mettiamo così dopo aver fatto a botte con le di shiva la donna che appunto stavano cercando anche lei gli rivela che non ha mai avuto figli e quindi sostanzialmente non era la madre di robin i due quindi decidono di andare dalla terza candidata che si trova in etiopia e qui si viene a scoprire che la terza candidata shayla highwood è effettivamente la madre di jason che si è innamorata del padre e che dopo venne scaricata dopo essere rimasta incinta per frequentare katherine quella che jason ha sempre considerato sua madre c'è un problema però joker e shayla si conoscono si conoscono perché joker ha aiutato shayla molto tempo addietro quando era ricercata per aver fatto degli aborti illegali infatti lei è una dottoressa il rapporto fra joker e shayla però non è finito infatti joker sta ricattando shayla per un piano che sta cercando di mettere in atto jason lo viene a scoprire e rivela di sapere tutto a batman ma soprattutto a shayla rivelandogli anche la sua identità e è proprio lei a portarlo all'interno del magazzino del quale vi ho parlato all'inizio di questa storia infatti shayla porterà jason all'interno di questo magazzino gli punterà una pistola addosso e lo minaccerà consegnerà poi jason al joker e cercando di difendere la madre che ovviamente verrà tradita dal joker e la legherà all'interno del magazzino perché voleva far esplodere il magazzino con lei dentro e quant'altro verrà fuori la mega rissa di cui vi ho parlato all'inizio nel quale appunto joker fece scoppiare la bomba e scoppiare questo magazzino arriviamo quindi alla fine della nostra storia a quella famosa pagina dove batman vede il magazzino esplodere bene quella ragazzi non fu l'ultima pagina di quel fumetto dc comics decise di mettere in mano la vita di jason todd ai lettori infatti pubblicando questa pagina qui dc comics disse esplicitamente chiamate questo numero se volete votare che robin muoia o chiamate quest'altro numero se volete che invece robin viva il sondaggio si chiuse con 5271 voti per la vita mentre 5343 per la morte va da sé come appunto il titolo del fumetto una morte in famiglia che robin successivamente perse la vita questo è un evento epocale non tanto per quanto riguarda la storia in sé ma per quanto riguarda la storia del fumetto perché è stata la prima volta che il lettore ha avuto potere decisionale reale per la conclusione o comunque l'evento narrato all'interno di una storia che jason todd non fosse un personaggio molto amato per quanto riguarda appunto i lettori insomma ve l'ho detto prima questo non fa altro che dimostrarlo teniamo conto però che dc comics aveva anche preparato delle tavole e ovviamente la storia nel caso la votazione fosse stata insomma più favorevole alla vita di robin per molti anni jason todd rimase uno di quei personaggi dei fumetti defunti per davvero assassinato proprio dai suoi stessi lettori la dc comics però decise di riportarlo in vita sulle pagine di crisi infinita e di dargli una nuova rinascita questa volta come cappuccio rosso una morte in famiglia è sicuramente una storia figlia degli anni 80 una storia che ha fatto la storia che fa parlare di sé tuttora proprio per l'importanza storica che ha svolto all'interno della storia editoriale del personaggio di batman e di robin va ha riconosciuto a dc comics denis o'neill e jim starlin il coraggio e l'astuzia e soprattutto l'idea di aver creato un caso editoriale abbastanza particolare ovvero quella volta che il pubblico o meglio i lettori in questo caso uccisero realmente un personaggio dei fumetti ok ragazzi il video finisce qui grazie per averlo guardato spero vi sia piaciuto perché è stata veramente una faticaccia registrarlo e sicuramente sarà una faticaccia a montarlo supportatemi però fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel mi piaccione qui sotto e soprattutto scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questo caso editoriale incredibile che è successo a fine anni 80 secondo me è qualcosa di veramente eccezionale detto questo se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per non perdervi nessun video di questa bruttissima faccia qui sotto in descrizione trovate il link di affiliazione amazon da utilizzare solo ed esclusivamente se non avete una fumetteria nelle vicinanze per acquistare una morte in famiglia così ve lo leggete anche sto fumetto perché va bene il caso editoriale ma leggiamoci anche la storia che secondo me insomma male non fa e detto questo noi ci vediamo ad un prossimo video bella lì ciao